Con l'arrivo dell'autunno riaprirà al pubblico il Teatro Comunale Regina Margherita. Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato l'avviso per la partecipazione alla procedura di sponsorizzazione della stagione teatrale musicale 2022-2023 del Teatro Comunale Regina Margherita, che prenderà il via il prossimo 28 novembre e si concluderà il 25 maggio 2023 con lo spettacolo Radici. Le offerte saranno valutate da una commissione comunale presieduta dal dirigente e composta da due dipendenti da questi nominati e ordinate secondo il criterio del maggior finanziamento e del maggior vantaggio economico complessivo. Fin qui niente di particolarmente rilevante, se non fosse per il termine perentorio previsto dal bando, entro e non oltre il quale presentare la domanda di partecipazione, le ore 10 del prossimo lunedì 14 novembre. Soltanto quattro giorni a disposizione, quindi con in mezzo il fine settimana, per organizzare e formulare la domanda di partecipazione al Comune Nisseno, che offre, secondo quanto si legge nel bando pubblico, ad un terzo che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e o marchio in appositi e predefiniti spazi pubblicitari. Possono partecipare infine soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale chiunque in ragione della propria attività si occupa di problematiche non in conflitto con l'interesse pubblico.